che cosa possiamo fare adesso qui siamo chiusi siamo chiusi forse ci liberiamo forse ci liberiamo ok abbiamo preso un valore incredibile dai che ce la puoi fare dai che ce l'abbiamo preso un valore incredibile dai che ce la puoi fare dai che ce la puoi fare dai che ce la puoi fare è fuori gioco attenzione tutto fermo non ha dubbio assistenza raga è fuori gioco dai così decattacchiamo dai ok bene benissimo bene benissimo tira ha sfondato la porta passami la palla per favore eccola qua la nostra doppietta abbiamo fatto un call in tre litri ragazzi siamo riusciti a fare il nostro gol vabbè però la palla è ancora nostra ci possiamo trovare adesso no niente da fare ok fine primo tempo 3 a 0 per noi benissimo passamela che sono solo dai però quando io sono solo fatevele la paglia ottima chiusura di pezzina può metterla da lì e ce l'ha fatta ciao passo a 0 adesso vediamo se riusciamo a fare anche la tripletta per la seconda volta brutto passaggio è che andiamo avanti forse forse se andiamo avanti ce la possiamo fare dai così ai avanti passane da me dai volevo fare la tripletta però facciamo un altro voglio fare la seconda tripletta vediamo se ci diciamo che prendiamo gol adesso dai così con 4 0 prendiamo gol è scandalo proprio non possiamo fare rovinare una partita perfetta l'unica che stiamo facendo perfetta così dai così dai che avanziamo in contropiede dai che avanziamo vediamo se da solo riesco a fare qualcosina lo saltiamo incredibile eh no l'ultimo mancava mancava l'ultimo vabbè ci ho provato vabbè non un grande passaggio però l'azione se me la gestisco per i fatti miei forse la faccio bene forse la faccio bene perché li salto uno l'ho saltato l'altro invece no come al solito sembra la stessa storia però vabbè alla fine ci sta siamo un po stanti guardate la barra di potenza lì di è un po manco a metà quindi ci sta che siamo stanti che cazzo fanno ma io vabbè se loro vogliono fare così fate così anche ok che adesso possiamo farlo adesso forse possiamo farlo adesso forse possiamo farlo eh non è apparato un altro dai però non vuoi fare questi errori in passaggi no 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 è vista brutta io non voglio che prendiamo con la destra perché la nostra partita è stata perfetta fino a questo punto e andarla a rovinare è solito della nostra squadra dai però dai però non ci possono fare questi errori prendila che cazzo difendi l'aria si vai a metterti la cinta per favore no adesso non mi incazzo dai adesso mi incazzo dai dai mi incazzo adesso perché non è giusto non è possibile non è pensabile di rovinare una partita in questo modo non è pensabile cioè renditi conto di cosa stiamo parlando 4 a 0 partita loro non hanno mai tirato in posta hanno fatto un tiro in croce vengono e segnero perché la nostra difesa fa schifo eh vabbè ma lì che cazzo c'è scusatevi ragazzi che cazzo c'è lì sto cazzo sto cazzo sto cazzo perché passi lì passamela lì ero libero ero libero la conosci la libertà o sei chiuso in una stanza da ricovero 118 vediamo se questo è il momento giusto per fare 118 118 118 vaffanculo vaffanculo io te lo dico proprio con il cuore con il cuore vai a fare il culo vabbè è finita questo incubo di partita è incubo nel senso che non siamo riusciti a fare l'altro gol abbiamo anche preso gol però sono contento che almeno abbiamo vinto 4 a 1 il risultato alla fine giusto 4 gol meno giusto per il gol preso però vabbè l'importante è che l'importante è che vinciamo senza ancora offerte di trasferimento Galatasaray tacci tu Galatasaray vacci te allenatore di merda mi vuole levare dalla squadra sono l'unico che fa tutte queste cose qui fanno schifo gli altri giocatori a me mi vuoi levare ti lascio anche qui comunque classifica secondo posto a meno 3 punti dal Parma che è primo il Parma meno 3 punti possiamo vincere questa serie B se ci impegniamo dubito con questa squadra però vabbè sono i dettagli questi eccoci qua comincia questa partita speriamo di vincerla e di fare soprattutto tantitone partiamo subito alla grande come potete vedere partiamo alla grande possiamo anche provare il tiro e invece no invece no attenzione perché ci attacca il Brescia cominciamo male cominciamo male non ci può così non ci può così vediamo se riesco a farlo io vabbè passami sta palla non riesco a saltarlo non riesco a saltarlo vediamo se ora questi qua riescono a bloccare gli avversari perché se no ci fanno il secondo gol ci fanno il secondo gol e c'è il dono mi sa che non mi incazza eh porco dio dio porco porco dio dio cane porco dio è possibile danna la madonna se io trovo quello che mi ha fatto innervosire di Okan che da un pugno che spacco la testa lo troverò quel deficiente prima del bolo eh non riesco a fare l'esercizare di ok non riesco a fare l'esercizare di ok non riesco a fare